Polonedì, il Vangelo di oggi ci presenta Gesù che mostra come esempio una vedova, una donna povera, poiché le vedove a quel tempo erano tra le categorie sociali più indigenti, infatti la perdita di un marito equivaleva alla perdita totale di ogni mezzo di sussistenza. Quella vedova, della quale noi non conosciamo il nome, ecco, invece di pensare solo a se stessa, dona tutto ciò che aveva come offerta nel tesoro del Tempio di Gerusalemme. Può sembrare un gesto avventato, irrazionale, scriteriato, era povero, aveva tutto il diritto di tenere per sé quel poco che aveva, invece dona tutto. Gesù utilizza quell'episodio che si svolgeva davanti ai suoi occhi per farci compiere una riflessione. Io che cosa do di me agli altri? E che cosa do di me a Dio? Il superfluo, le bricciole come fanno i ricchi, i ricchi di cui viene narrato appunto nel Vangelo. Proprio ieri parlavo dell'importanza di prenderci cura del nostro rapporto con Dio e con le altre persone. Quanto spazio dedico a Dio e agli altri? E quanto la cura di me stesso, di me stessa? Quella vedova ci ricorda che il tempo donato a Dio e agli altri non è mai perso, non è mai buttato. In un primo momento può sembrare uno spreco, una perdita di tempo, però poi ti rendi conto che è stato investito bene. È bene certamente avere del tempo per noi stessi, per il nostro riposo, svago, per avere un sano equilibrio mentale e fisico, ma non dimentichiamoci che è quando ci doniamo che proviamo una gioia ancora maggiore. Avvertiamo in noi scorrere il flusso della vita. Il rischio invece di essere persone che sono sempre protese a prendere, ad accumulare per sentirsi al sicuro. Quella povera donna invece ci insegna che sperimenti la gioia quando ti doni. Anche quando ti sembra di perdere tutto, in realtà stai guadagnando. Quella donna quella vedova ci insegna ad andare oltre i nostri calcoli, perché spesso ci doniamo con la calcolatrice in mano. Progettiamo quando donarci a Dio, quando donarci agli altri, mentre a volte ci viene chiesto di andare oltre i programmi e gli schemi. E anche se in un primo momento questo ci spiazza e ci infastidisce, da lì a poco, da lì può scaturire una grande gioia inaspettata. Con Dio, con gli altri, non doniamoci sempre con il bilancino, con il contagocce, ma impariamo ogni tanto a sforare, ad andare oltre l'orario, oltre il dovuto, a sprecare, nel senso bello del termine, un po' del nostro preziosissimo tempo. Il tempo donato non è mai sprecato. Buon inizio di settimana a tutti.